Un italiano in Cina e un cinese in Italia, cioè Song, che è anche lui qua su YouTube a parlarci di Cina e con cui ho il piacere di conversare in questo video. Trovate il link al suo canale qua sotto in descrizione, vi consiglio di seguirlo. Quindi benvenuto Song, come stai? Ciao Davide, tutto bene? Tu come stai? Dalla Cina, che qua a Milano in questi giorni ha diluviato di brutto, fa un po' freddo. No, qua si sta bene, qua c'è quella temperatura perfetta, che dura molto poco nello Zian Su, perché o fa molto freddo d'inverno o fa molto molto caldo d'estate, però la primavera e l'autunno sono quei due piccoli intervalli che ci godiamo in questo momento. Bene, bene, bene. Senti una cosa, Song, noi già c'eravamo visti, avevamo fatto un video insieme sull'auto elettrica cinese e su come già stava penetrando insomma in Europa, soprattutto nell'Europa orientale, quindi l'Ungheria. Un paese che è nuovamente al centro, diciamo, dell'attenzione anche dei media cinesi, perché c'è stata la visita recente del presidente cinese in Serbia, Ungheria e Francia, che è una visita che evidentemente ci riporta anche a parlare delle auto elettriche cinesi. Quindi volevo chiederti se ci sai dare un aggiornamento su questo tema. Da un lato c'è lo scontro con la Francia, dall'altro lato c'è la collaborazione tra Cina e Ungheria. Ecco, come sta andando? Diciamo che tra i paesi europei l'Ungheria è il paese che accoglie di più la Cina da questo punto di vista. Non a caso BYD, come saprai già, sta costruendo la sua fabbrica in Ungheria per produrre le auto elettriche e da questo punto di vista la Francia, che è uno dei paesi europei più famosi per la produzione dell'auto, secondo me non vorrebbe rimanere indietro, quindi vorrebbe, diciamo, accapararsi qualche azienda di auto elettriche e portarlo in Francia. D'altro lato anche la Spagna ho sentito che si sta muovendo, Ceri mi sembra, che sta iniziando collaborazione con un'azienda spagnola sempre per la costruzione di una fabbrica per produrre le auto e manca l'Italia, anche se le ultime news da questa collaborazione tra Stellantis e poi Lip Motor, sempre un'azienda di auto elettrica, no? Che vorrebbe portarlo qui in Italia. A settembre hanno detto che inizieranno a vendere le auto di Lip Motor e speriamo che possa portare anche la produzione delle auto Lip Motor qui in Italia. Ecco, così almeno... anche per Mirafiori che ha la produzione bloccata, perché poi sarebbero fabbricate a Mirafiori, sì. E quindi tu dici, vedi, comunque un'Europa aperta a investimenti, diciamo, dell'industria di marchi cinesi che costruiscono le loro fabbriche in Europa, anche in Francia, sì, effettivamente leggevo, BYD dovrebbe forse, o almeno il ministro francese ha aperto le porte anche ad uno stabilimento di BYD a Parigi, cioè a Parigi, Francia. E nello specifico con Serbia e Ungheria, dici, questa visita che c'è stata con Xi Jinping, c'è stato anche questo aspetto? Pensi ci sarà un incremento? Perché lì c'è BYD, c'è Cattle, insomma c'è già parecchio. Sì, sì, sì. E da saturato c'è ancora margine? No, ma c'è ancora margine. Per adesso BYD è quello più grosso, è l'azienda di auto elettrica più grande della Cina, è il primo a muoversi, va bene, però vi motivino perché comunque è il più grande, vendi di più, ha più capitale a disposizione e vuole essere per primo sul mercato europeo e ovviamente va a scegliere i paesi che danno più, diciamo, incentivi alle aziende per stabilizzarsi nei loro territori. E Ungheria, appunto, è uno di questi. Quindi io mi aspetto comunque c'è ancora tanto spazio perché comunque le auto elettrici sono moltissime in Cina e l'Europa è molto grande, da questo punto di vista c'è molta domanda. Poi vedremo come reagirà, cosa farà i governi dell'Europa con i dazi, visto che l'America ha già qualche giorno fa aumentato i dazi sulle auto elettriche cinesi, vediamo cosa farà l'Europa. E poi non di poco, è da 25% a 100%, quindi un aumento non molto significativo, molto sostanziale e vediamo se l'Europa seguirà oppure farà la sua politica. Sì, diciamo che non sarebbe neanche in contraddizione, da un lato cercare di attrarre industrie di investimenti e dall'altro lato mettere in atto politiche protezionistiche, come ha fatto appunto gli Stati Uniti, per evitare l'ingresso di concorrenza estera. E però restando quindi sugli Stati Uniti, come giustamente ricordi appunto si è passati dal 25% al 100% nell'importazione di auto elettriche, ma secondo te ci sarà una rappresaglia da parte della Cina, una risposta o è una mossa che verrà ignorata? Soprattutto anche per quanto, diciamo, pesa il mercato statunitense nell'export dei veicoli cinesi. Esatto, perché fino a ora l'export negli Stati Uniti delle auto elettriche cinesi sono pochi, sono pochi anche rispetto, diciamo, all'Europa, quindi questo impatto, diciamo, questo ha l'aumento delle tasse sulle auto elettriche, per adesso avrà poco impatto, anche perché si esporta già poco, quindi non è che avrà tanto effetto per adesso sulle aziende delle auto elettriche che puntano di più su altri mercati, cioè il mercato dell'India, poi del sud-est asiatico e poi vediamo cosa fa l'Europa. Per adesso diciamo che il mercato più grande resta sempre il mercato domestico, ecco, per le auto elettriche, perché comunque, secondo me, con le auto, le aziende che vogliono espandersi, andare all'estero, devono prima consolidare il mercato domestico, perché se non riesci ad avere, no, ad andare in break-even sul mercato domestico, poi, cioè, avere i capitali, mettere capitale per andare all'estero, ad investire all'estero è un po' pericoloso, no? Anche perché mi pare di capire che la percentuale di auto esportate rispetto a quelle vendute internamente in Cina non è così alto, nel senso in paesi come Germania e Giappone in percentuale esportano di più, in termini assoluti esportano di meno, però in percentuale esportano molto di più. Sì, 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 esatto, esatto, quindi tante aziende, cioè, non riescono ad esportare, perché comunque, cioè, come fai, non già fai fatica nel mercato domestico, dove c'è una super competizione, i prezzi si stanno abbassando, il livello della tecnologia si sta alzando, e quindi se non riesci, se fai fatica sul mercato domestico, poi andare all'estero è un po' ancora più difficile, ecco. Certo, chiaro. Adesso quelle che si stanno, quelle che le aziende che stanno esportando sono più quelle aziende che, bene o male, vendono bene in Cina, quindi, oppure hanno, diciamo, degli investitori dietro molto, diciamo, molto forti che gli danno capitale, quindi riescono comunque ad esportare, però gli altri che hanno iniziato da poco, da due o tre anni, li puntano più sul mercato domestico per adesso. Chiaro, certo. E nella direzione opposta, cioè Tesla in Cina, mi viene in mente appunto la recente visita di Elon Musk, una visita sorpresa, diciamo, che ha fatto in Cina, come la leggi, cosa cercava di ottenere, insomma, come è andata? Allora, sicuramente le vendite di Tesla sono un po' diminuite, perché c'è troppa concorrenza lì, c'è tantissima concorrenza, quindi tante auto, tante case automobilistiche stanno abbassando i prezzi e alzando il livello di tecnologia, puntano molto, diciamo, sul comfort, sulla guida autonoma, no? Sulla prestazioni, e quindi per adesso, su questo punto di vista, Tesla, con le sue auto, è un pochino indietro, quindi la visita di Elon Musk lo leggo per, anche perché adesso voglio introdurre FSD, quindi da quel punto di vista, diciamo, Tesla è ancora competitivo e quindi vorrebbero, secondo me, tramite FSD, l'introduzione della guida autonoma, di comunque riprendersi un po' il mercato, perché la guida autonoma di Tesla, diciamo, rispetto ai concorrenti cinesi, è ancora molto, va ancora molto forte, e quindi adesso Tesla sulla Cina sta puntando più sulla guida autonoma. Quindi anche un modo, diciamo, per la Cina di attrarre questo aspetto della tecnologia piuttosto importante, perché poi la guida autonoma ci porta a parlare anche della tecnologia in senso lato, e quindi anche in fondo di quella che è l'intelligenza artificiale. Ad esempio, leggevo che anche l'aspetto 5G può centrare con la guida autonoma, se non altro perché la Cina ha parecchi milioni di stazioni 5G, che sono molti di più di quelle che ci sono negli Stati Uniti, ad esempio, dove sono, mi pare, sull'ordine delle 100.000, e probabilmente per la guida autonoma serve anche quello, c'è una connessione 5G stabile, che sia qualcosa di fondamentale, quindi da un lato Tesla trova in Cina quello, dall'altro lato la Cina trova dalla Tesla questa tecnologia più sviluppata dal punto di vista tecnico che può essere. Ma in fondo il rapporto Cina-Tesla è sempre stato un po' questo, fin da quando la Tesla è arrivata a Shanghai, che ha aperto quella Gigafactory. Sai raccontarci un po' com'è andata? Cioè, qual era lo scopo di Tesla in quel momento e lo scopo della Cina in quel momento? Vabbè, lo scopo di Tesla sicuramente era quello di entrare per primo sul mercato cinese e accapararsi, no? Diciamo una fetta, no? Quindi, cioè, di solito chi entra per primo in un mercato riesce comunque bene o male a prendersi una gran fetta di mercato, no? Però nel caso di Tesla è stato un po' difficile perché comunque sono arrivati poi è stato inondato di tante aziende di auto elettriche cinesi molto competitive e lì poi Tesla piano piano ha perso un po' il suo questo suo vantaggio competitivo dell'essere arrivato per uno dei primi, no? Quindi adesso sta cercando di in tutti i modi secondo me di riprendersi questa un po' bene o male tramite FSD questa fetta di mercato che comunque sulle auto elettriche le tecnologie di futuro sono quelle o vai a sviluppare le batterie oppure vai sulla guida autonoma ecco, quello è il sono i due diciamo vie di sviluppo per le auto elettriche future almeno in Cina puntano su quelle per diciamo differenziarsi un po' dalla concorrenza, no? Poi probabilmente Tesla entrando in Cina ha anche stimolato un po' quello che è l'indotto e la catena di forniture nel senso che poi immagino molti produttori diciamo di parti intermedie cinesi volendo vendere a Tesla hanno dovuto alzare il loro standard contribuendo a creare poi in fondo quella che è l'industria di oggi quindi io vedo una sorta di rapporto simbiotico tra Cina e Tesla almeno per come si è sviluppato negli ultimi anni complesso perché c'è la competizione dei prezzi e su questo tema che cos'è che tiene così bassi i prezzi delle auto elettriche cinesi? Competizione per adesso troppa troppa competizione cioè troppe troppe aziende che producono auto elettriche tutti tra uno o due mesi c'è la presentazione di un'auto e vengono presentate con l'introduzione di nuove tecnologie per esempio l'ultima che è stata presentata è un il brand IM Motors che ha presentato una berlina si chiama L6 che cioè allora questa è un sottobrand della SAIC che è una delle aziende automobili che è più grande della Cina e ha presentato un'auto con a parte prestazione della Madonna quindi simile alla Xiaomi su 7 accelerazione sotto i 3 secondi poi la cosa interessante è che ha introdotto anche la batteria semisolida la batteria semisolida che riesce ad arrivare a una guida scusa ad un'autonomia più di 1000 km anche con una ricarica abbastanza veloce 30-80% 10-15 minuti quindi quindi vedi che ogni mese adesso c'è stato l'IM Motors L6 magari tra due mesi tra tre mesi un'altra un'altra azienda automobilistica arriverà con un'auto nuovo con una nuova tecnologia e abbasserà ancora il prezzo per conquistarsi il mercato adesso è così eh tutti si stanno battagliando per per accapararsi anche in perdita tanti sono sono in perdita però adesso la cosa importante è prendersi una fetta di di mercato perché eh tanti come il CEO di Xpeng no? che diceva che adesso ce ne sono migliaia però tra nel 2030 lui vede ci saranno tre o solo tre o quattro quattro o cinque che resterà sul mercato e quelli sono quelli alla fine quelli che rideranno diciamo fino alla fine no? visto che rimarranno e poi poi lì tutto il mercato è nelle nelle loro mani e da lì poi mettere il cominciare a mettere il il margino per per avere profitti adesso invece è tutta tutta una competizione per per prendersi una una fetta di mercato ecco questo è quello che vedo io più che la sovraccapacità produttiva diciamo che è la grande accusa che adesso gli Stati Uniti soprattutto rivolgono alla Cina più che questo sembra legata a meccanismi di competizione interna probabilmente anche di capacità insomma dell'industria cinese di essere altamente integrata perché poi in Cina c'è un'industria piuttosto sviluppata su tutti i livelli da quelli più bassi a quelli intermedi e anche a quelli alti per cui a differenza di altri paesi anche quelli in via di sviluppo dove è difficile trovare tutto in quel paese lì le difficoltà ad esempio della Foxconn con Apple in India dove non riesce a trovare quello che trova in Cina cioè una catena di rifornimento completo ecco in fondo anche questo probabilmente aiuta ad abbassare i prezzi o ad avere insomma un'industria più competitiva cioè comunque ho sentito anch'io a questa cosa della sovraccapacità se ne era parlato tanto anche nei media cinesi sulle auto tant'è vero che nel primo semestre primo trimestre da gennaio febbraio in quei periodi dove vendevano si vieneva poco cioè la vendita delle auto elettriche è calato ecco quindi anche la sovrapproduzione secondo me ha inciso un po' ha inciso un po' sulla bassa nei prezzi però dal mio punto di vista comunque la competizione è quello che ha contribuito di più perché ogni mese vedi ogni due o tre mesi vedi un'auto sempre con tecnologie nuove con prestazioni sempre migliori quindi lì devi 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 stare dietro cioè un'auto che magari due o tre anni fa era considerato avevo fatto un video sul rising un'auto rising che due o tre anni fa con quelle prestazioni erano era buonissimo sul mercato oggi è come se fosse scaduto no quelle tecnologie quelle prestazioni ce l'hanno tutti quindi nessuno poi va più su quel su quel brand a meno che non migliori non tiri fuori nuove tecnologie e non tiri fuori i prestazioni migliori se no come fai a competere impossibile chiaro certo e invece l'economia in generale diciamo a questo punto spostandoci a un tema più ampio sappiamo il 2023 non è stato certamente un anno d'oro per l'economia cinese per il settore immobiliare altri aspetti il 2024 come lo leggi diciamo i primi mesi che primo trimestre insomma quadrimestre come è andata il primo trimestre non è andata malissimo non benissimo neanche malissimo i dati sono stati abbastanza positivi l'inflazione un po' è tornato a crescere l'import export è andato bene il PIL ha fatto adesso mi ricordo sopra comunque il 5% ultimi questi ultimi giorni è uscito anche il dato dell'inflazione per il mese di aprile che tra l'altro ha sempre visto un incremento quindi piano piano vedo che sta recuperando ritmi bassi ovviamente non ritmi altissimi ritmi bassi però vedo che piano piano si sta recuperando anche se fa ancora un po' di fatica dal punto di vista del mercato dell'immobiliare che secondo me anche quel mercato di cioè quel settore lì è per adesso quello che tira giù l'economia un po' l'economia cinese perché finché il prezzo la discesa del prezzo delle case non si stabilizza la vedo un po' difficile che diciamo gli altri parametri macroeconomici risalgono con una crescita consistente e anche da parte del governo sta introducendo sempre più nuove misure per stimolare l'economia e l'ultimo è l'emissione dei bond ultralunghi che vanno dai 20 anni 30 anni 50 anni che è la prima volta che emette queste obbligazioni proprio per diciamo stimolare l'economia che ha bisogno di questi stimoli per riprendersi dopo un 2023 che è andato un po' sotto le aspettative degli analisti forse anche se parliamo di sovrapproduzione penso che nel mercato immobiliare ciò che occorre penso che lì sia palese che ci sia troppe case costruite troppe case costruite ecco e questo poi si riflette anche su altri indotti il vetro piuttosto che i mobili tutta l'economia che c'è dietro diciamo il settore dell'immobiliare mi ha risentito dal prezzo delle case che è in prima linea poi dal prezzo delle materie che vengono utilizzate per la costruzione tutto il settore le persone non comprano più nonostante i prezzi stanno diminuendo delle case il governo sta introducendo le misure per stimolare anche l'acquisto delle case molte città hanno tolto la restrizione dell'acquisto per esempio di una singola casa a Hanzo addirittura si acquisti si compri case ti danno la residenza perché la residenza come saprai in Cina non è come qui ti trasferisci da Milano Roma cambi residenze a posto invece in Cina è molto più difficile tanti cinesi ambiscono a una residenza nelle città Tier 1 o almeno Tier 2 nel capoluoghi delle province e spostarsi non è assolutamente così facile quindi questa ultima mossa della città di Hanzo per ravvivare il settore immobiliare quindi se compri una casa a Hanzo ti danno anche la residenza e tantissime manovre stanno uscendo da questo punto di vista proprio per ritirare su noi il settore dell'immobiliare perché nonostante i prezzi super bassi che a ritmi di 10% scendono e nonostante questo le persone non compran più case perché pensano che non sia ancora raggiunto questo bottom e non si fidano più perché comunque anche se investi nelle case ormai c'è chi compra a casa sono quelli che veramente hanno bisogno delle case e non come prima dove le persone compravano gli appartamenti come investimento perché crescevano al ritmo del 30 40 50% ogni anno e adesso in fondo sembra essersi un po' realizzata quella formula che era uscita anche dalla presidenza cinese cioè le case servono per viverci e non per specularci esatto esatto adesso almeno è così chi compra a casa lo compra perché ha bisogno della casa per abitarci ecco ma quindi è una crisi diciamo che si è ritorta contro cioè hanno ottenuto ciò che volevano diciamo così ma sono felici di aver ottenuto ciò che volevano diciamo da parte del governo centrale secondo te nel senso questa crisi si è ritorta contro quella politica o invece è stata una crisi proprio scatenata volutamente per sgonfiare la bolla immobiliare secondo cioè è stata diciamo voluta secondo me perché comunque ha introdotto queste le cosiddette tre linee rosse che ogni azienda non potevano indebitarsi più del dovuto comunque e ha fatto l'ha introdotto e da lì che poi è scatenato e c'è stata la crisi quindi un po' voluta perché anche il governo ha visto che i prezzi stavano andando alle stelle quindi dovevano in un modo o nell'altro intervenire perché se no lasciare tutto in mano al mercato secondo me anche lì prima o poi sarebbe scoppiata questa bolla con l'intervento del governo è accaduto prima al suo pro e al suo contro quindi cioè l'economia mi ha risentito tantissimo da una parte però da un'altra parte magari se aspettava ancora lì l'effetto sarebbe stato molto probabilmente più più grande ecco di di farlo scoppiare volutamente questo è quello che ho visto io secondo me non lo so cioè puoi dire che è andato fatto bene ha fatto male non lo sai perché non sai come sarebbe l'effetto senza questo l'intervento del del governo quindi vediamo vediamo se l'economia secondo me l'economia quanto tempo ci metterà l'economia a riprendersi se ci metterà non lo so 2-3 anni a riprendersi cioè ci sta va bene se invece 5-6 anni 10 anni non si riprende allora lì è un problema quindi è tutto staremo a vedere se ha fatto la ha fatto la mossa giusta oppure oppure no chiaro certo perché ricordiamolo appunto la questione della bolla immobiliare se ne parlava tantissimo già da prima del 2021 cioè l'anno appunto della famosa frase le case servono per vivere non per fare soldi ma io quando ero venuto in Cina 10 anni 12 anni fa quindi nel 2012 già si diceva presto scoprirà una bolla immobiliare che avrà delle conseguenze devastanti in realtà c'era una richiesta che si faceva alla Cina di controllare questo questo fenomeno in un certo senso è stato fatto però con difficoltà perché il settore immobiliare è un pilastro dell'economia quindi prima di andare a colpire uno dei pilastri principali dell'economia cinese è chiaro che ci vogliono anche delle contromisure un altro pilastro importante è l'export almeno lo è stato l'export verso l'occidente anch'esso messo dura crisi guerra in Ucraina diminuzione dell'export eccetera quindi essendo che questi due pilastri diciamo così fondamentali dell'economia cinese sono scricchiolati così vistosamente ecco mettiamo appunto che era una crisi voluta almeno quella sull'immobiliare che cosa è stato fatto diciamo per sostituire questo pilastro per tamponare gli effetti collaterali cioè non è crollato ma non si sta neanche riprendendo come vorrebbero cioè i dati sti macroeconomici sono andati bene però cioè va molto rilento quello che vedo io e quindi c'è ancora questa sfiducia da parte dei consumatori che piano piano stanno riprendendo però non è una cosa dall'oggi al domani e quindi secondo me l'effetto sta ancora piano piano deve ancora essere diciamo assorbito però dall'altra parte ha detto anche il governo nella riunione del fine anno che adesso in futuro la crescita dell'economia cinese non sarà più basato appunto sull'immobiliare sull'export ma piuttosto vogliono incentrare questa crescita sul consumo poi sul high tech e sulle rinnovabili e quindi in questi settori poi andranno ad investire i capitali le risorse ecco quindi staremo a vedere quindi già lo sta facendo lo vediamo già nel high tech che sta investendo tanto il consumo sta cercando con misure di aumentare il consumo ripristinare un po' la fiducia dei consumatori cinesi e vediamo come andrà ecco e a proposito delle abitudini dei consumi in Cina io ho visto una differenza rispetto dieci anni fa nel senso che ho visto anche consumi più orientati anche proprio nella vita quotidiana diciamo ad attività di svago ci sono tantissimi negozi di animali per esempio cani gatti oppure viaggi c'è tanto questa idea di viaggiare internamente alla Cina che emerge anche leggendo i dati economici però emerge anche dalla vita quotidiana nel senso senti spesso gente che è andata in giro a viaggiare ecco mi dà un po' l'idea quasi che il consumatore cinese si stia muovendo verso cioè in uno scenario più fosco perché c'è la guerra perché l'economia non è più non cresce più come un tempo ecco forse c'è un po' l'idea di evadere quindi quel tipo di consumo che non è più come quello di dieci anni fa dove c'era molto invece l'idea che consumare è prestigioso non so se ti ricordi tutti i premium VIP ogni cosa era VIP la VIP line un numero di telefono era una VIP line queste cose ancora ci sono di fronte a casa mia c'è un country garden dove c'è ancora scritto VIP line che è il numero di telefono sostanzialmente però c'è l'idea che se tu chiami sei un VIP però quasi stona adesso dieci anni fa era comunissimo poi invece stona questa idea di consumare come prestigio adesso stanno molto più attenti stanno molto più attenti al consumo non consumano più come una volta soprattutto adesso dopo questa crisi c'è questo effetto ricchezza che è svanito perché comunque il patrimonio maggior parte del patrimonio di una famiglia cinese nell'immobiliare l'immobiliare non sta andando benissimo il mercato azionale se adesso si ha avuto un rimbalzo ma non è ai livelli di due anni fa quindi non c'è più questo effetto ricchezza le persone stanno super attento l'altra volta parlavo con mio amico che sta a Shanghai e mi diceva che tutti stanno super attenti cioè va bene quei beni di cui hai bisogno però se su una cosa puoi risparmiare risparmi alla grande per questo che piattaforme come Pinduoduo che è nato appunto perché dove puoi acquistare i prodotti super prezzi super super scontati adesso sta andando bene tutti stanno comprando più da Pinduoduo che da Taopao e quindi comunque questo spiega ancora una volta adesso i consumi cinesi il consumo da parte delle famiglie cinesi stanno super super attento le cose vedono cioè minime differenze di prezzi hanno impatto diciamo decisivo nella fase decisionale della famiglia cinese quindi sono super super attenti le cose che sai posso comprare o posso non comprare non non li comprano più come come una volta sì quello che ho percepito anch'io e soprattutto da questo meccanismo poi giustamente ricordato emergono anche applicazioni in fondo anche Shein anche quelle applicazioni che sono uscite poi dalla Cina Shein, Temu Pinduoduo sono nascono da questo processo cioè dall'abbandono di questa idea che consumare è prestigioso che era un'idea che c'era anni fa ma anche perché sappiamo la Cina il suo percorso che ha fatto a un certo punto poter spendere soldi era effettivamente l'indice anche di una felicità o quantomeno di aver raggiunto di essere uscito da una condizione come quella dei decenni precedenti quindi in un certo senso era davvero qualcosa da VIP paragonato diciamo con la vita dei genitori o del passato però a distanza di dieci anni c'è una Cina diversa un consumo diverso si sta più attenti si consuma anche un po' per evadere dalla realtà vedo anche un po' questo aspetto quindi piccole spese ma che aiutano insomma a distrarsi che in fondo è anche quello che avviene in occidente per certi versi quindi questi sono processi sicuramente interessanti sono cambiate le abitudini dei consumatori ecco questo questo si nota abbastanza vistosamente e ha un effetto anche sul resto del mondo perché poi queste applicazioni di cui abbiamo parlato da Shein Pinduoduo sono applicazioni che nascono appunto dalle esigenze della classe media cinese l'algoritmo punta a questo ad una competizione al ribasso dei prezzi ma anche il modo in cui queste applicazioni hanno concepito i loro rifornimenti quindi le aziende da cui attingono il sistema che hanno integrato al loro interno è qualcosa che comunque consente di raggiungere questo scopo cioè di fornire dei prezzi più bassi e nel momento in cui queste applicazioni cominciano ad uscire dalla Cina per arrivare nel resto del mondo beh allora ecco che queste dinamiche scatenate all'interno della classe media cinese cominciano a diffondersi nel resto del mondo e quindi quello che notiamo diciamo così da queste applicazioni negli Stati Uniti o in Occidente è tutto sommato quello che si nota anche in Cina c'è TikTok ecco un'altra applicazione che proviene dalla classe media cinese come Shein eccetera che esprime le esigenze di quella classe lì ma che poi esce nel resto del mondo e a fatica si incastra come la vedi il discorso TikTok perché ormai mi pare di capire che la legge è passata no? sì sì è passata e devono trovare una soluzione però da quello che leggo nei media è che TikTok non vuole vendere non vuole vendere quindi vedremo cosa farà se uscirà dal mercato americano oppure oppure troverà non lo so un altro modo per ribattere questa 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 legge quindi d'altronde è così quando sai no? i due paesi sono in in tensione cioè cercano quando un'azienda va bene in un paese cercano comunque no? di rallentare un po' no? questa questa crescita che tra l'altro capisco perché comunque TikTok ha un'applicazione cinese dell'azienda ByteDance che sta andando ormai nelle social dei videocorti come lo chiamano in Cina e quando hai tanti utenti tutte quelle informazioni che hai suggerano su quell'app cerchi quindi di proteggere i dati dei dei tuoi dei tuoi cittadini del del paese quindi per questo no? fa tutta tutta la tutta la mossa di cercare di di bannarlo e vediamo come come andrà a finire chiaro sì poi difficilmente Pechino permetterà la vendita se non altro perché si parla anche di tecnologia c'è già solo l'algoritmo in sé l'idea di venderlo ci saranno leggi a protezione della tecnologia suppongo verrà messo qualcosa però questo discorso ci porta allo scontro allora diciamo così della politica internazionale e allora volevo chiederti un po' quindi sostanzialmente tra Cina e Stati Uniti volevo chiederti se sai darci un po' il polso dell'opinione pubblica cinese nel senso che come vedi beh tu vivi in Italia ormai da anni ti sarai accorto che c'è un po' l'idea di uno scontro inevitabile no? cioè primo o poi se non è se non è quest'anno sarà il prossimo se non è il prossimo il 2027 ma prima o poi ci sarà una guerra e ci troveremo in guerra anche contro la Cina ecco questa cosa non tutti chiaramente la pensano così ma c'è una parte che emerge anche dai giornali che la vede come qualcosa di inevitabile altri chiaramente non sono così felici però di certo c'è anche un'associazione molto forte tra la Cina e la Russia così come siamo in guerra contro la Russia lo saremo anche contro la Cina perché Cina e Russia sono una sorta di blocco unico nell'opinione pubblica cinese c'è anche questa idea qua cioè l'idea di uno scontro che prima o poi ci sarà o c'è meno? secondo me c'è meno da quello che si legge almeno c'è c'è meno cioè qui sui media occidentali ogni notizia che leggi sembra che ci sarà questo scontro invece da parte dai media cinesi c'è c'è di meno c'è di meno ovviamente la tensione c'è però vedono più uno scontro dal punto di vista sai no delle delle tecnologie di chi andrà bene riuscirà a conquistare a introdurre nuove tecnologie ecco e più e più e più su questo fronte cioè io lo lo vedo dal punto di vista dei media cinesi pochissimo una guerra vera e propria anche perché non è che i cinesi amano sono bellicosi con tutta la ricchezza secondo me che l'economia è arrivato dove sono arrivati perché ci sono stati tanti tanti sacrifici no anche le persone che si sono costruite un po' non sono arrivate in una classe classe media assolutamente i conflitti è l'ultima cosa secondo me che che vorrebbero perché sai una una sanzione molto forte da da parte degli Stati Uniti da parte dell'Europa nei confronti della Cina l'altra volta c'era stata una minaccia dai Stati Uniti per buttarlo fuori dal circuito Swift ovviamente non fa bene alla Cina e alla sua economia certo io non sono d'accordo quando si parla di una Cina bellicosa diciamo che da un momento all'altro potrebbe fare la guerra anche perché poi in fondo se guardiamo negli ultimi anni di guerre ne ha fatte piuttosto poche se comparate con altri paesi va bene va bene perfetto guarda io ti ringrazio per questa chiacchierata che ci ha dato una panoramica diciamo sulla sulla situazione sia quella economica sia quella appunto di alcune industrie come quella dell'auto elettrica e sia poi la geopolitica e l'opinione della gente in Cina tutti i dettagli di son gli sviluppa magistralmente sul suo canale youtube quindi di nuovo vi invito a darci un'occhiata iscrivervi lo trovate in descrizione e ti ringrazio grazie a te per il limito figurati ciao a tutti ciao ciao